Ora un fronte progressista per combattere le destre. Dopo il pericolo scampato, il Premier Conte punta l'indice contro Salvini per aver trasformato il voto regionale in un referendum su di lui. Mi riferisco in particolare a Matteo Salvini, che devo ritenere proprio per questo atteggiamento che io giudico improprio, esce come il grande sconfitto di questa competizione. Rifarei tutto, ribatte invece Salvini, anche la citofonata, ma in Emilia Romagna viene interrotta la marcia del leader leghista. Ma io guardo sempre con ottimismo e ringrazio per un milione di emiliani romagnoli che ci hanno dato fiducia su cui costruiamo. Tiene invece il Partito Democratico pronto ora a chiedere nuovi equilibri all'interno della maggioranza. Il Presidente Conte ha annunciato e sta lavorando su un'agenda di lavoro, noi ovviamente sosteniamo questo sforzo. Una crisi che sembra inarrestabile invece è quella dei Cinque Stelle senza una leadership dopo le dimissioni di Di Maio. Dobbiamo camminare pancia a terra l'indicazione del reggente, Vito Crimi, ma il percorso sarà lungo. Dal voto invece una boccata d'ossigeno per Forza Italia in Calabria, mentre Fratelli d'Italia conquista consensi in entrambe le regioni. L'Emilia Romagna è un premio alla coerenza, alla correttezza, alla concretezza con la quale abbiamo lavorato in questi mesi, dal quale facciamo tesoro e andiamo avanti e rilanciamo. Direttore, quale foto ci consegna il voto di ieri? Indubbiamente l'Emilia Romagna ha segnato una frenata per Salvini, è una vittoria di Bonaccini nel senso che hanno pesato le ragioni di un buon governo locale e è stata sconfitta l'idea che si potesse con questo voto dare una spallata definitiva al governo. Insomma, è stato da questo punto di vista il bilancio dei Salvini negativo. In qualche modo oggi il Presidente del Consiglio ha lanciato questo fronte progressista. Questo è uno schema che si può capire se si accetta l'idea che questo voto è una spinta verso il bipolarismo. Quindi nel bipolarismo c'è questo, però naturalmente consegna il Paese a una lotta permanente. L'altro dato che emerge dalle elezioni è la scomparsa dei Cinque Stelle, che si trovano oggi a essere nella situazione di forza ancora di maggioranza relativa in Parlamento, nonostante defezioni varie e quasi inesistente nel Paese. Allora questo non può non preoccupare, dovrebbe preoccupare io credo Conte e la maggior parte dei politici responsabili.